Signore e signori, benvenuti a bordo. Il capitano e l'equipaggio vi augurano buon viaggio. Si calmi! Su si calmi! Cerchi di riprendere, torni insieme. Abbiamo problemi. Sgombrate la pesta, sgombrate la posta, voglio dire... Il nostro capitano ha avuto un malessere. Niente di grave, comunque. Non c'è differenza tra un aereo e una bicicletta. Ma c'è differenza tra una bicicletta e un aereo. L'aereo più pazzo del mondo. Questa sera, 22.30, Italia 1.